Ciao a tutti ragazzi bentornati su Starlet's Tube, nuova recensione librosa. È uscita qualche tempo fa su Netflix questa serie tutta made in Italy tratta appunto da un libro made in Italy uscito credo nel 2013 e riuscito in una nuova edizione proprio in occasione di questa serie che ero molto curiosa di vedere però mi son detta aspetta Sara prima leggiti il libro così poi puoi fare un ben confronto però siccome ho saputo che la serie è solo alla prima stagione quindi ce ne sarà una seconda e si interrompe praticamente verso la prima metà del libro mi son detta alt facciamo una cosa allora Sara prima fai la recensione del libro e poi quando avrò guardato la serie cioè adesso oggi domenica domani la comincio farò appunto il confronto tra libro e serie tv comunque sto parlando di questo Guida astrologica per cuori infrante di Silvia Zucca questo appunto era uscito se non ho detto una ciofeca era uscito prima nel 2015 vedete che ho detto la ciofeca è uscita nel 2015 e nel 2021 proprio in occasione della serie è uscita con questa nuova copertina infatti questa è la protagonista questo è uno dei protagonisti e tutto il resto insomma ci sono un bel po' di indizi per quanto riguarda la serie io ho già sentito da alcuni miei amici che hanno guardato la serie che è veramente deliziosa e super carina infatti non vedo l'ora di iniziarla sono sei episodi che vanno dalla mezz'ora ai 40 minuti quindi me la berrò come un bicchiere d'acqua e Silvia che tutto ringrazio e mando un bacione per avermi risposto su Instagram mi ha già spiegato che la seconda stagione avrà alcune differenze ma neanche troppe in confronto al libro quindi io comunque sono previdente e ho deciso di fare questa cosa quindi oggi vi recensirò soltanto il libro poi quando guarderò la serie quindi settimana prossima prima di Natale arriverà la recensione della serie con il confronto annesso al libro sempre che io con la mia mora da Bradipo non mi scordo già tutto entro una settimana ringrazio innanzitutto anche l'editrice Nord che mi ha mandato il romanzo proprio per questo progetto scusate se ci ho messo tanto ma ragazzi non sono un robot ho i miei tempi comunque bando alle ciance adesso mi accingo a leggervi la trama le stelle non mentono, gli uomini sì 30 anni passati da un po' single, non per scelta e con un impiego che offre ben poche prospettive di carriera Alice Bassi accoglie la notizia del matrimonio del suo indimenticato ex come il proverbiale colpo di grazia se non fosse ancora abbastanza nella piccola rete televisiva per cui lei lavora arriva Davide Nardi sguardo magnetico e sorriso indecifabile Davide sarebbe il sogno proibito di Alice peccato sia stato assunto come tagliatore di teste insomma non ce n'è una che vada bene non ce n'è una che ne vada per verso giusto scusatemi ma poi Alice incontra Tio un attore convento di conoscere il segreto per avere successo l'astrologia non quella spacciata sui giornali bensì una vera lettura delle stelle che esistono proprio per segnalarci i giorni più favorevoli per la sfera professionale o per farci trovare l'anima gemella se pur scettica Alice decide di provare e inizia a uscire con uomini compatibili col suo segno zodiacale però stranamente la finità astrare non impedisce di collezionare incontri sbagliati fallimenti imbarazzanti e sorprese di cui avrebbe fatto volentieri a meno come non impedisce a Davide di diventare sempre più attraente tuttavia a lui Alice non osa chiedere di che segno sia perché ha paura che la risposta la deluda o peggio che la illuda e perché in fondo spera che l'amore non abbia bisogno delle stelle per trovare la sua strada ecco la trama è tutto un programma voglio già partire dal presupposto che si è stata molto brava in una cosa lo dico già subito Alice arrivando a un certo punto della storia inizia a sviluppare una vera e propria ossessione quasi una dipendenza per l'astrologia ma Silvia tratta il tutto con leggerezza e ironia per non far pesare appunto questa cosa che alla fine è un problema perché purtroppo ci sono quei fanatici che veramente se non hanno il quadro astrale che combacia non escono con nessuno e non escono neanche di casa se le stelle non sono favorevoli quello ragazzi è un problema che va appunto curato con della psicoterapia e quindi di conseguenza però Silvia ha trattato il tutto in maniera molto ironica molto divertente senza però appunto cadere nell'irrispettoso perché purtroppo ci sono delle persone che sono così Alice appunto entra in questo tunnel grazie a Tio e finisce anche un po' col perdici però il tutto come ho detto è molto ironico molto divertente senza pesare troppo sul lettore e mantenendo comunque il ritmo e l'atmosfera che si addicono al romanzo perché questa è una commedia romantica e quindi di conseguenza Alice ne combina di tutte e di più Alice è un personaggio romantico un personaggio che sogna il letto fine è un personaggio che ha collezionato veramente una serie di fallimenti uno è Carlo che è il suo ex storico con cui è rimasto in ottimi rapporti che però le annuncia il suo matrimonio su Facebook ce neanche glielo dice e questa è veramente una cosa molto brutta e poi c'è stato Giorgio Giorgio che invece era un fedifrago che l'ha presa per il culo dicendo sì sì non sono sposato invece era sposato e quindi giustamente lei l'ha mandato con un sonoro calcio nel culo a farsi benedire lei lavora appunto per questa piccola lette in cui arriva questo Davide che è veramente il principe azzurro sebbene comunque abbia anche lui i suoi difetti e di conseguenza Alice ha un po' paura di venire insomma siccome lei ricopre un ruolo minore ha paura appunto di essere una delle prime ma essere lasciata a casa quindi di conseguenza cerca di pensare a qualcosa per potersi tenere il posto di lavoro appunto conosce appunto in questa circostanza conosce Tio che è un attore e fissato appunto anzi Tio è chiaramente un esperto di astrologia però tende un pochino a esagerare tende un pochino a esagerare leggerissimamente poi anche lui alla fine si dà una calmata in un certo senso conoscendo la persona giusta per lui quindi appunto di conseguenza la fa entrare in questo tunnel e la sua amica Paola appunto la migliore amica in assoluto di Alice non è molto d'accordo ha appena diventato mamma ha sposato felicemente che è diciamo la parte più razionale ecco Tio e Paola sono la parte stravagante di Alice la componente stravagante ironica, divertente, spigliata mentre Paola è quella più razionale quella più con i piedi per terra quella che ragiona più con la testa che con il resto del corpo ecco diciamo c'era pure tutta però darebbe l'anima per Alice sono insomma due amicizie molto importanti per la protagonista e appunto per merito di una serata poi veramente fuori controllo del tutto stranunato e tutto il resto grazie a una frase appunto di Alice Davide viene in mente di proporre questo programma ovvero Guida Astrologica per i Cuori Infranti e l'autrice sarà proprio Alice e alcuni la cosa che mi ha fatto ridere che alcuni dipendono invece di essere contenti che bello facciamo qualcosa lavoriamo non rischiamo il licenziamento no ero un po' di coglioni perché adesso sono più occupati di prima ma ringraziate Dio che lavorate ragazzi ringraziate Dio che avete un lavoro e tutto il resto poi vabbè ci sono tanti siparietti veramente divertentissimi ironici da sbellicarsi dalle risate e tutto il resto e appunto in questa circostanza Alice incontra il primo dei tanti fallimentari che è Alejandro che è un attore di una sopopera spagnola molto caliente molto appunto magnetico che però ha un piccolo problemino e la cosa purtroppo di Alice è che si lascia subito coinvolgere lei è una persona appunto molto molto emotiva lei si lascia subito prendere si lascia subito coinvolgere e invece dovrebbe andarci con i piedi appunto di piombo specialmente in certe situazioni e diciamo che finisce in tempo zero con questo deficiente che alla fine è quello è quello che era soltanto un povero rincoglionito diciamo c'era pure tutta e poi c'è poi chi altro arriva poi adesso veramente non me li ricordo tutti però non è che sono tantissimi non è che sono tantissimi e comunque Alice proprio per colpa dell'astrologia passa da un da un ragazzo all'altro senza veramente riuscire a trovare la sua anima gemella nonostante i quadri astrologici con bacino e e poi tutto la porta sempre a Davide Davide che è un personaggio molto particolare perché fin dal principio è innamorato di Alice cioè innamorato attratto da Alice scusatemi ma non è un playboy anzi lui si comporta proprio davvero gentleman anzi cerca addirittura di mantenere distanze e di combattere questa attrazione questo sentimento che sta nascendo in lui perché Alice appunto rappresenta tutto quello che lui non ha mai non ha mai incontrato è spiegata solare con la battuta sempre pronta dice sempre quello che pensa e tutto il resto infatti questo ogni tanto lo mette in difficoltà ma purtroppo Davide non è libero ma nonostante tutto però fomenta anche l'attrazione che Alice prova per lui quindi diciamo che Davide da una parte è stato scorretto ma dall'altra non è che l'ha fatta apposta perché anche lui è veramente molto combattuto sui suoi sentimenti perché appunto fa fatica a fidarsi delle persone non si lascia mai andare del tutto con Alice pensava appunto di poterci riuscire però lui appunto non è libero infatti io volevo dire anche a caro Davide caro Davide se ti piace un'altra ragazza vada all'altra stronza e la lasci perché se hai dei dubbi vuol dire che forse c'è qualcosa che non va io non lungi da me puoi dirti cosa fare però stai chiaramente poi con una persona che è un palo nel culo assurdo e che ci ha scritto troia lampeggiando sulla fronte però vabbè diciamo che forse anche quello che cerchi perché tanto non te ne fregava niente di innamorarti o quanta lorso non te ne importava niente ti dava bene qualunque cosa prima di incontrare Alice va bene se l'incontro con Alice ti ha fatto svegliare però però prima dice la persona guarda che sono impegnato però sono in un momento di grande confusione ti chiedo tempo per schiarirmi le idee invece lui fa lo stronzo involontariamente ma purtroppo lo fa infatti si creano poi anche dei casini che fanno soffrire anche abbastanza quindi Davide è un po' l'antieroe nel senso che rispetto agli altri romanzi che ho letto romance lui si si comporta da stronzo però non lo fa con cattiveria non lo fa perché vuole approfittarsi della povera protagonista ma perché anche lui è in un turbinio di indecisione pazzesca però figlio bello cioè se se stesse allora io avrei capito se Barbara che è la persona in questione fosse stata una brava ragazza una brava persona simpatica carina ma è una stronza ma che cazzo ti ci vuole hai conosciuto sta ragazza che è brava bella gentile sorridente allegra che ti mette un'energia pazzesca che ti fa provare emozioni che non le hai mai provato e conteni a stare con quel manico di scopa che praticamente è la reincarnazione di satana in terra ma per favore ma veramente io a certi uomini veramente gli darei un calcio nel culo uno scappellotto alla gips per farli svegliare santo dio del cielo Silvia poi ha uno stile veramente molto scorrevole e fluido non l'avrei mai letto anche perché questo è il primo libro che leggo di Silvia non l'avevo mai letto non l'avevo mai letto questo romanzo sarò sincera l'ho scoperto con la serie quando ho visto la serie l'avevo sentito nominare naturalmente perché alcune mie amiche l'avevano letto me lo consigliavano però io e poi e poi e poi e sono passati sei anni scusami Silvia e quindi appunto di conseguenza con la serie con la serie l'ho scoperto infatti e questa è la cosa bella anche delle serie tv magari tratti da romanzi che sono un po' finiti nel dimenticatoio che ti rifanno e poi anche le edizioni poi anche fare delle nuove edizioni proprio in occasione di queste serie va bene perché appunto se non ci fosse stata questa edizione nella serie probabilmente sarei rimasta ignorante invece sono contenta che sia uscita la serie in modo che sia uscita di nuovo questa ristampa veramente tanto tanto carina che appunto mi ha permesso di conoscere questo romanzo un po' vabbè non vi dirò i casini che ci sono alla fine io vi prego nella seconda stagione perché penso che avverrà nella seconda stagione ditemi Silvia in direct qua nei commenti che ci sarà la scena in cui Alice va a chiedere l'oroscopo a tutti persino al macellaio ti prego il segno zodiacale ti prego fategliela fare a questa attrice perché penso che sarà la protagonista vi prego fateglielo fare mettetela quella scena perché potrebbe diventare la cosa più epica mai vista su Netflix vi prego vi prego mettetela veramente poi Alice comincia veramente a cadere proprio nel tunnel dell'astrologia non esce con nessuno se il quadro astrologico non è perfettamente compatibile al suo diventa appunto cadiamo nel tunnel della dipendenza infatti Paola se ne accorge dice guarda che secondo me dovresti cominciare a parlare scusate con qualcuno perché tu stai veramente attraversando a questo punto una dipendenza stai avendo un problema proprio psicologico poi ripiomba anche Giorgio nella sua vita che Giorgio non vi voglio dire niente guardate vi lascio il piacere di scoprirlo è un capolavoro un capolavoro nel senso negativo del termine però santo Dio della luce io a quel Giorgio a un certo punto avrei fatto così grazie maestro Bruce Lee per averci dato quel suono e quella scena nei tre dell'operazione Drago quindi ragazzi no veramente lasciamo perdere e poi dalla parte abbiamo anche Tio che comunque arriva anche lui a capire che forse Alice sta esagerando e tutto il resto poi vabbè c'è anche il finale poi che secondo me è perfetto assolutamente non ve lo spoiler naturalmente vi lascio il piacere di legge perché comunque questo lo potete trovare in tutte le librerie negli store online vi lascio poi appunto in descrizione il link di Amazon per l'acquisto Silvia come ho detto ci regala una storia allegra frizzante divertente romantica ma anche profonda e di grande riflessione mantenendo pur sempre comunque l'ironia e la leggerezza che contraddistinguono appunto questo genere di romanzi io veramente non vedo l'ora di buttarmi sulla serie già aspetto la seconda stagione perché visto che comunque non è tutto io ho letto alcune cose già veramente spero di vederle nella serie e faccio i miei complimenti appunto a Silvia spero che scriverai ancora romanzi del genere ti posso assicurare che li leggerò nel frattempo veramente se non avete mai letto questo romanzo e volete cogliere l'occasione proprio per la serie su Netflix mi raccomando non fatevelo assolutamente scappare bene ora come sempre passiamo al giochino dell'estrattino ho deciso che li leggerò sempre più corti in modo da non spoilerarvi da non spoilerarvi troppo quindi appunto l'ho già trovato io spero appunto con questo piccolo estrattino perché mi hanno stato detto ma sì ma trovali comunque magari che siano all'inizio e che magari non siano troppo troppo lunghi quindi sto cominciando a tastare con la fine dell'anno questo metodo e vediamo se magari riuscirò a farli ancora più corti andando avanti con il resto appunto della storia del canale diciamola pure così quindi ragazzi bando alle ciance adesso vi leggo questo estrattino e spero che vi invogli andare in descrizione e cliccare sul link dell'avviso dell'acquisto scusatemi non acchiappo più un cavolo stasera anche Silvia scusami anche tu rientro sbattendo con violenza la porta sono furente ce l'ho con Davide perché mi ha mentito perché non è la persona che sembra e con me stessa perché continuo a interpretare i segnali solo ed esclusivamente in una direzione come se ogni volta mettessi un paio di occhiali con le lenti rosa sono talmente arrabbiata che mi manca il fiato e ho i vestiti fradici e il tessuto mi si incola la pelle in un modo così irritante che mi li devo strappare via oggi ho tolto la camicetta quando mi accorgo di non essere da sola sulla porta della regia Alejandro non dice una parola ma mi guarda con quei suoi occhi latini scuri e languidi nemmeno io dico niente ma mi avvicino senza staccare lo sguardo dal suo con un gesto fluido collaudato lui si sfila la maglietta mostrando ancora una volta quei suoi addominali da competizione ho bisogno di questo ho bisogno di perdermi le sue labbra hanno il sapore salato della mia disillusione ecco qui poteste interpretare il comportamento di Alice in maniera un po' così però diciamo che in questo momento qui che vi ho letto Alice era in un momento emotivo abbastanza destabilizzante quindi di conseguenza si è buttata su questo ragazzo nel palido tentativo appunto di dimenticare la delusione di Davide che da quello che mi ricordo aveva appena licenziato uno dell'azienda quindi di conseguenza e un attimo prima le aveva detto che si doveva fidare di lei che non è che gli piace appunto Davide fare quello che fa però poi è il suo lavoro che deve fare certo non è che si diverte però appunto Alice è molto emotiva quindi qua era molto molto fragile emotivamente quindi di conseguenza certo se uno mi si sfila la maglietta davanti va bene che Jacob sei tu in Twilight comunque va bene ragazzi non stiamo lì a giudicare tanto fidatevi che Alejandro alla fine non è lasciamo perdere lasciamo perdere vi lascio appunto il piacere di scoprire tutto leggendo questo fantastico libro quindi mi raccomando andate nel link in descrizione lo trovate sia cartaceo che ebook mi raccomando non fatevelo scappare e quando appunto avrò finito di vedere la serie settimana prossima prima di Natale ci sarà appunto il video confronto sarà uno degli ultimi video dell'anno possiamo dire così concluderò proprio in bellezza questo 2021 quindi mi raccomando vi aspetto la settimana prossima per il confronto libro serie tv e intanto se siete curiosi mi raccomando recuperate questo romanzo perché se siete in cerca di una storia che vi alleggerisca un po' la mente e il cuore questo fa assolutamente per voi bene questa recensione si conclude qui io non ne racchiappo più niente infatti mi sa che cosa adesso smetto perché vado a dormire perché sono veramente un po' un po' leggermente stanca domenica che sto registrando è stata una giornata abbastanza caotica ma comunque divertente vi ricordo come sempre che se volete sostenermi dovete iscrivervi al canale soprattutto seguirmi su instagram link in descrizione io su instagram andengo aggiornati su tutte le attività del canale le pubblicazioni i video le live le letture chi più ne ha più ne metta quindi mi raccomando vi aspetto in descrizione se volete mettermi anche qualche like ai post mi fate molto contenta quindi link di instagram per restare sempre aggiornati e se volete sostenermi qui invece iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi assolutamente nessun nuovo video in descrizione troverete anche la pagina facebook carily tell dedicata nei walking daddy in questo video come vi ho detto siamo fermi anche perchè la serie è ferma comunque a fine anno faremo una live appunto per fare un po' il quadro della situazione di tutto l'universo di The Walking Dead quest'anno ovvero The Walking Dead Fear e War Beyond per farci anche gli auguri di fine anno comunque siamo atti The Walking Dead ancora non conoscete la pagina potete trovare di tutto immagini approfondimenti news chi più ne ha più ne mette insomma tante tantissime cose quindi mi raccomando Carol se lo merita perchè si sta facendo anche un mazzo così per mantenere la pagina attiva dato che non esce assolutamente nulla quindi link in descrizione poi io e lei siamo sempre in live quindi se volete vedermi anche in un altro verso in un altro contesto interagire con me comunque mettete like alla pagina seguiteci appunto in live adesso dal 20 di febbraio riprenderanno i commentari in descrizione troverete anche un'altra pagina con cui stiamo collaborando appassionata di Walking Dead ovvero The Walking Dead Ita Family loro sono proprio insieme a noi la più informata la più appassionata pagina dedicata alla serie loro proprio trattano tutto l'universo ovvero World Beyond Fear proprio Walking Dead potete trovare news, aggiornamenti curiosità news sugli attori aree di discussione commentary video meme meme divertenti tutto il resto dedicati ai personaggi quindi chi più ne ha più ne metta quindi ragazzi mi raccomando se amate le Walking Dead andate in descrizione e seguite queste due splendide pagine facebook se questa recensione vi è piaciuta mi raccomando mettete un bel pollice in su e fatemi sapere voi nei commenti invece se avete letto il libro cosa ne pensate se vi ho incuriosito lo leggerete se guarderete la serie se l'avete già vista cosa ne pensate e tutto il resto quindi mi raccomando senza farvi vabbè gli spoiler a me non interessano quindi non vi preoccupate io ringrazio ancora Silvia per la fiducia per i messaggi dolcissimi in direct e l'editrice nord per la copia cartacea del romanzo ragazzi io vi mando un bacione enorme e noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti